Entra in vigore anche a Cremona la tassa sul turismo. Già da quest'anno gli ospiti di Campeggiostelli pagheranno 1 euro notte, mentre nelle altre strutture l'esborso sarà di 1,50 euro. Il pagamento sarà applicato solo per i tre pernotamenti e sarà graduale. Infatti già l'anno prossimo è previsto un rincaro di 50 centesimi. Sono previste però una serie di esenzioni per alcune categorie protette, come il minore di 14 anni, i disabili, gli autisti di bus e gli accompagnatori turistici. L'imposta, come sottolinea il Comune, sarà utilizzata per finanziare interventi nel settore turismo, per sostenere strutture e servizi con l'obiettivo di potenziarne e increscare così un circolo virtuoso che deve avere come obiettivo l'aumento di flussi di visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero.